Dopo aver creato il database con le tabelle artiste e album, adesso dobbiamo iniziare a scrivere il codice dell'applicazione che permette di realizzare le funzionalità richieste, per esempio inserire l'artista, inserire l'album, andare a fare eventuali modifiche, cancellazioni, eccetera. Quelle cioè che si chiamano operazioni CRUD, questa cronima corrisponde a create, read, update e delete, quindi tutte le operazioni che normalmente si fanno sulle tabelle di un database. Ora per scrivere il codice dobbiamo realizzare le classi java che effettuano il mapping delle tabelle del database, cioè delle classi java che rappresentano dal punto di vista del codice quelle che sono le tabelle del database. E qua vediamo con una notazione UML quali sono appunto le classi artiste e album sono due classi java quindi che permettono di effettuare il mapping, la mappatura sulle tabelle del database e quindi hanno gli stessi attributi delle tabelle. Io preferisco utilizzare gli stessi nomi per cercare di minimizzare poi gli errori in fase di scrittura di codice, però questa è una mia scelta, non è obbligatorio farlo. C'è naturalmente una corrispondenza di tipi tra java e sql MySQL potete trovare queste informazioni su internet, però insomma è abbastanza semplice intuire che un tipo int di sql di MySQL corrisponde ad un tipo int di java. Vedete l'attributo id è di tipo integer. Invece di utilizzare il tipo primitivo int è preferibile utilizzare le classi wrapper, le classi wrapper del tipo primitivo int e integer. Le classi wrapper sono classi che consentono di trattare i tipi di primitivi come oggetti. Quindi questa è l'indicazione generale, almeno per le chiavi primarie usare classi wrapper, quindi oggetti e non e non tipi primitivi. Il motivo è uno dei motivi è che è possibile assegnare a questi attributi dei valori nulli. Se fossero tipi primitivi invece il valore di default sarebbe 0 e 0 ha un significato diverso da nulla. La corrispondenza per quanto riguarda le string, in MySQL abbiamo il Varchar in java string. Per quanto riguarda le date, anche in java abbiamo il tipo date. Attenzione perché ci sono diverse classi date in java e noi dobbiamo prendere quella che è presente nel package java.sql. e poi vabbè per quanto riguarda altri valori di tipo intero possiamo usare tranquillamente il tipo primitivo. Ognuna di queste classi ha poi tutta una serie di metodi che sono i metodi tipici dei pojo, cioè dei plain old java object e che sono i costruttori, i metodi get, i metodi set, il metodo to string e poi se vogliamo aggiungere altri metodi come equals e così via, che tipicamente troviamo definiti o ridefiniti all'interno delle varie classi. Potranno esserci poi ulteriori metodi aggiuntivi, comunque non ho qua specificato nel dettaglio la sezione dei metodi di questo diagramma delle classi. Tra le due classi, artist e album, esiste una associazione, anche in UML si chiama così, rappresentata con una linea continua e anche in questo caso abbiamo delle cardinalità che non si chiamano più così in UML ma cambia il nome ovviamente perché cambia il modello, quindi si chiamano molteplicità, al posto di n per indicare un valore generico maggiore di 1 se usa l'asterisco ed è possibile a scelta, cioè facoltativamente, anche etichettare queste associazioni con delle forme verbali o dei sostantivi che consentano di comprendere che tipo di relazione c'è tra le due classi. è possibile anche indicare una direzione di lettura, per esempio produce con la freccia che va da sinistra a destra indica che la relazione valetta come, l'associazione valetta come artista produce album e prodotto da con la freccia che va invece da destra a sinistra, album prodotto da artista. Per quanto riguarda le molteplicità, vediamo che vicino ad artista c'è solo un 1 difatti questa è una forma abbreviata per indicare molteplicità massima e minima uguali a 1 in alternativa si potrebbe scrivere 1.1 per quanto riguarda invece 1.1 questo va interpretato come cardinalità minima 1 e cardinalità massima un valore maggiore di 1 non ben precisato bisogna fare attenzione perché le molteplicità in questa rappresentazione sono invertite rispetto al modello R infatti se andiamo a riguardare il modello R vediamo che la molteplicità che si chiama cardinalità 1N si trova sotto artista mentre la 1.1 si trova sotto album nello schema nel modello UML invece sono proprio invertite per quanto riguarda il passaggio dallo schema concettuale in UML sempre di schema concettuale si tratta al linguaggio Java ci sono delle regole di traduzione da applicare noi adesso andremo a vedere la regola che consente di passare da questo schema con un'associazione di tipo 1 a molti sempre quindi passare da questo schema al linguaggio Java per quanto riguarda la classe che partecipa con molteplicità 1 cioè la classe artista dobbiamo andare ad aggiungere una variabile un attributo che contenga riferimenti agli album che quell'artista ha prodotto io ho aggiunto ad artista l'attributo album di tipo list di album poi andiamo ad aggiungere i metodi get e set per questo nuovo attributo la lista non deve essere passata al costruttore anche se il costruttore dovrà farsi carico di creare almeno l'istanza di questa lista per evitare che successivi accessi possano dare origine ad un'eccezione di tipo null pointer exception inoltre si aggiunge un metodo che io ho chiamato add album che consente di aggiungere l'album a questa lista il metodo restituisce void e ha come parametro un'istanza di album per quanto riguarda invece la classe che partecipa con molteplicità 1 asterisco o 0 asterisco non è questo il caso si aggiunge una variabile del tipo della classe associata quindi una variabile di tipo artista eccola qua artist di tipo artista anche in questo caso aggiungiamo i metodi get e set prima qui non ho naturalmente parlato di toString ma posso aggiungerlo anche qua andiamo a modificare il toString in modo che comprenda anche la lista di album quindi aggiungiamo i metodi get e set modifichiamo il toString e poi anche in questo caso non andiamo a modificare il costruttore perché non passiamo questo nuovo attributo come parametro andiamo a definire un metodo che crea riferimento alla classe associata ma questo metodo esiste già e coincide con il metodo setArtist bene è arrivato il momento di passare al codice Java quindi la prima cosa da fare è nella classe artista andare ad aggiungere una lista di riferimenti alla classe album quindi dobbiamo aggiungere questa variabile distanza album di tipo list di album list poi dobbiamo aggiungere i metodi get e set per album e modificare il toString quindi il toString è modificato è stato aggiunto album andiamo a modificare il costruttore in modo tale che vada a creare un'istanza di questa lista però dobbiamo capire un attimo che cos'è una lista che cos'è il tipo list in Java list è una interface che appartiene al framework collections la documentazione di Java ci dice che list appartiene al modulo java.base e al package java.util list oltretutto è un generic cioè è un tipo parametrizzato e questa E racchiusa tra le parentesi angolari indica appunto il tipo degli elementi contenuti all'interno della lista si tratta di un'interfaccia quindi fornisce una descrizione di come devono essere fatte realizzate le classi che implementano questa interfaccia quindi fornisce una serie di metodi dei metodi privi di implementazione e questi metodi sono vediamo alcuni add che consente di aggiungere un elemento all'interno della lista l'elemento indicato qui con E e il parametro il primo parametro di questo metodo è l'indice dove andare ad inserire questo elemento quindi da qui capiamo che le liste hanno un indice che rappresenta la posizione dell'elemento all'interno della lista poi abbiamo questo metodo add che invece aggiunge l'elemento in coda alla lista difatti non viene richiesto l'indice la posizione clear che cancella rimuove vedete removes tutti gli elementi presenti all'interno della lista contents che consente di andare a verificare se un certo oggetto passato come parametro appartiene o meno a questa lista è presente all'interno della lista equals è il metodo che confronta se la lista è uguale ad un'altra lista passata specificata come parametro il metodo get che permette di andare a recuperare l'elemento che si trova all'indice specificato esempi per verificare se la lista contiene elementi oppure non contiene elementi adesso sto prendendo in esame dei metodi quelli più facilmente comprensibili e intuibili però vedete ce ne sono veramente molti remove rimuove un elemento all'indice specificato remove object va a rimuovere la prima occorrenza dell'elemento specificato come parametro poi abbiamo size che consente invece di sapere la dimensione di questa lista tutte le liste tutte le classi che implementano questa interfaccia hanno una dimensione variabile una dimensione che varia anche run time e quindi size indica non tanto la dimensione effettiva della lista quanto il numero di elementi che in essa sono contenuti tu array che permette di trasformare la lista in un array ora questo però il fatto che lista sia un'interfaccia implica che noi non possiamo creare un'istanza di questa interfaccia quindi utilizzeremo una delle classi che implementano questa lista per creare la nostra lista contenente quindi i vari album possiamo dare un'occhiata a tutte le classi che implementano questa interfaccia e abbiamo delle classi astratte che anche qui non ci servono perché non sono istanziabili le classi astratte non possono essere istanziate e poi da qui in poi abbiamo tutta una serie di classi io utilizzerò la classe array list andiamo a vedere com'è fatta questa classe implementando l'interfaccia list ovviamente presenta una versione concreta di tutti i metodi che abbiamo già visto nell'interfaccia eventualmente può contenerne anche altri all'interno di ciascun costruttore devo andare quindi ad aggiungere un'istruzione che crea un'istanza della lista album quindi album uguale new array list di album e dobbiamo andare a importare la classe array list questa istruzione deve essere aggiunta a ogni costruttore adesso andiamo a vedere cosa dobbiamo fare ancora definire un metodo che aggiunge alla lista un'istanza della classe associata quindi il metodo public void add album passiamo come parametro una istanza della classe album utilizzo lo stesso nome che ho messo nel documento nuovo album e questo metodo deve aggiungere impiegando il metodo add della classe release questo nuovo album alla nostra lista quindi la nostra lista che si chiama album vedete la lista si chiama album andiamo ad aggiungere quindi punto add il nuovo album ecco qua fatto per quanto riguarda la classe artista siamo a posto adesso dobbiamo andare a modificare la classe album dobbiamo aggiungere alla classe album la variabile distanza artist di tipo artista private artist di tipo artista poi aggiungiamo il metodo get set per artiste modifichiamo to string eccoli qua e to string modificato e abbiamo fatto tutte le modifiche che occorrevano